I tre integratori fondamentali per il tuo post lockdown Informa Senta Fitness, il primo canale YouTube che ti permette di essere in forma senza essere più costretto a mettere il fitness al centro della tua vita Allora, in questo momento, ripeto, noi siamo stati bombardati di regole abbiamo la mascherina sempre con noi come un accessorio e quindi in questo momento tu sei rimasto fermo un sacco di mesi, un sacco di settimane e ti sei ritrovato non per colpa tua a dover sottostare a regole che ti hanno imposto di stare completamente fermo in casa Ovviamente è cambiata la tua routine, è cambiato quello che mangiavi è cambiato come tu ti allenavi e ovviamente è cambiata anche la tua integrazione In questo momento però hanno quasi riaperto le porte e ti ritrovi vogliosamente a ritrovare la tua forma ovviamente nel minor tempo possibile senza perdere ulteriore tempo Quindi quello che dobbiamo fare in questo momento è capire quali sono gli integratori fondamentali per ritrovare la tua forma nel minor tempo senza ovviamente sprecare soldi senza usare un qualcosa che ti possa semplicemente non servire e ovviamente senza usare prodotti che non tengono conto di questa tua situazione pregressa Cosa voglio dire? Voglio dire che ciò che tu dovrai fare da questo momento a un tuo principale obiettivo non è lo stesso identico percorso che avresti mai dovuto fare dal febbraio quando hanno chiuso le porte ad adesso perché è cambiato tutto quindi è molto importante questa situazione è molto importante capire perché questa cosa cambia veramente lo stato della questione e alla fine il risultato potrebbe essere completamente diverso riprendere un'integrazione normale semplicemente perché lo facevo prima semplicemente perché me l'hanno detto perché lo fanno tutti e perché si crede che si fa così beh non ti farà arrivare nel tuo risultato migliore senza ovviamente perdere tempo perderai un sacco di tempo acquisterai prodotti che non ti servono in questo preciso momento e ovviamente sprecherai soldi e tempo che non faranno altro per aumentare il tuo senso di frustrazione so benissimo che hai voglia di rivalsa come me hai una gran voglia di allenarti di spaccare tutto di andare fuori di spingere eccetera ma ti serve una linea guida generale che ti faccia capire quali integratori andare ad assumere allora scopriamoli un attimo insieme io te ne dirò tre perché per me questi sono i tre fondamentali il primo sicuramente acido alfa-lipoico il secondo omega 3 il terzo proteine esolate semplice, basico, veloce tutto quello che va al di fuori in questo momento per una veloce ripartita beh non ti serve ovviamente i miei clienti è ovvio hanno un'integrazione diversa perché? perché i miei clienti non si sono mai fermati i miei clienti hanno continuato a migliorare come le dimostra il libro che sono l'unico in Italia ovviamente il primo è l'unico e come le dimostrano le mie centinaia di testimonianze sul web ogni giorno quindi tra l'altro ti invito a entrare nel mio gruppo chiuso fitness illusion per trovarti il tuo libro cartaceo a casa totalmente gratis in più per poter parlare con i miei clienti senza passare da me quindi torniamo agli integratori come bisogna affrontare questa parte questa situazione allora prima di tutto Omega 3 sappiamo tutti oramai ok è inutile stare qua a ricordare le proprietà di Omega 3 chi è del settore conosce molto bene la situazione però è anche vero che anche su questo integratore altamente sfidiato che si sa quasi tutto appunto di questo genere di composto troviamo delle affermazioni astupide quello che tu devi fare è capire in questo momento che ti serve questo integratore specialmente specialmente per combattere l'infiammazione perché? perché in questo momento tu troverai un aumento di intensità repentino rispetto a quello che facevi prima rispetto a quello che farai adesso perché ti allenerai so benissimo che hai voglia di farlo magari vuoi anche iniziare un percorso nuovo hai capito in questo lockdown che ok forse probabilmente la tua felicità non ti piace e quando tutto sarà finito vorresti aver voluto iniziare quindi questo è il momento giusto anche se siamo in estate anche se è ripreso anche se gli altri non lo fanno se sei una persona decisa questo è il momento giusto quindi incominciando un nuovo percorso tu avrai un aumento di infiammazione e l'Omega 3 è fondamentale per combattere questo stato che potrebbe portare a un catabolismo che potrebbe portare a un'infiammazione cronica che potrebbe portare a una diminuzione di prestazione secondo integratore fondamentale l'acido alfa lipoico allora l'acido alfa lipoico chi è del settore sa molto bene ok inutile che io qua mi ripeta però è l'antiossidante per eccellenza in più anche un modulatore di carboidrati possiamo chiamarlo così limita l'insulino resistenza migliora l'assorbimento appunto dei glucidi assolutamente sì lo posso accettare prima di tutto è un ottimo antiossidante quindi vigono le regole diciamo dette prima in precedenza quindi va a combattere l'infiammazione riduce i radicali liberi e fondamentalmente ci fa rimanere più giovani questo come impatta sul nostro allenamento migliorando le prestazioni in secondo luogo è un ottimo modulatore di carboidrati quindi se in questo momento hai già visto le mie tre strategie per il video precedente per ritrovare la tua forma in modo migliore c'è la ciclizzazione dei carboidrati ciclizzando i carboidrati ed abbinando un integratore basic e com'è l'acido alfa lipoico tu riuscirai a centellinare ogni singola glucida perché ti serva solamente per il tuo obiettivo senza che questo vada a sfociare in un aumento di grassi quindi a riempire le tue cellule adipose il nostro focus è sempre quale? quello di liberare più acidi grassi possibili a riposo e sfruttare nel modo migliore possibile gli zuccheri durante la fase di allenamento terzo integratore proteine isolate certamente proteine isolate la proteina sappiamo tutti molto bene che è un composto totalmente diverso da quelli che sono i grassi e da quelli che sono i carboidrati perché dico proteina isolata? non ti dico magari bistecca non ti dico altro perché in questo momento hai voglia di uscire hai voglia di stare fuori hai voglia di stare all'aria aperta è stato tre mesi bloccato in casa non per colpa tua ti hanno messo le manette ti hanno tenuto dentro anche se tu volevi uscire quindi mi immagino che come me tu voglia stare il più tempo possibile all'aria aperta e come per tutti è difficile procurarsi pasti giusti solidi da portarsi dietro 24 ore su 24 è uno shaker proteico di altissima qualità di altissima qualità isolato a rapida digestione è quello che ti serve in qualunque momento della giornata anche negli spuntini quindi se abbinato a magari qualche altro composto un po' di grassi o un frutto o in altre situazioni nel post workout addirittura se hai da fare un allenamento veramente intenso pre workout un 40 minuti prima su una dose di 15-20 grammi su un soggetto di 80-85 kg ben condizionate sono totalmente fondamentali per aumentare e migliorare la sintesi proteica quindi tutto quello che devi fare è capire che anche se queste situazioni ti sembrano già familiari ti sembrano già state dette dico no ma ok ma lo sapevo già però le devi applicare l'applicazione è totalmente diversa quindi applica come io ti ho spiegato in questo video se vuoi ovviamente saperne di più l'unica cosa che devi fare è balzare in modo veloce nel mio gruppo Fitness Illusion per avere anche il mio libro a casa di testimonianza e poter finalmente parlare con gli autori di quelle video interviste che vedi tutti i giorni su YouTube senza passare da me arrivi ci parli senza che io possa mettere qualunque tipo di censura e questa si chiama semplicemente trasparenta quindi quello che voglio in questo momento è che tu in maniera molto sarcastica chieda a chi per sé quindi a qualche tuo coach a qualcuno che reputi veramente interessante di farti vedere le schede che prepara per i propri clienti e confrontarle tu stesso tra i clienti stessi e confrontare le schede con la tua scheda se il tuo coach in questo momento ti impedirà questa facile consultazione cosa che io non posso impedire perché le mie schede sono totalmente visibili nel mio gruppo chiuso e questa ripeto si chiama trasparenza vuol dire che tu stai facendo la cavia per una persona che magari non ha clienti oppure a tantissimi clienti ai quali affibbia semplicemente un copia e incolla spilandogli soldi senza dargli nulla in cambio ci vediamo nel mio gruppo chiuso Fittance Illusion entraci immediatamente e scopri il mio libro a casa delle testimonianze ripeto l'unico in Italia da avere questo un libro di testimonianze e recensioni scritto interamente dai miei clienti grazie a tutti grazie a tutti